Mi scusi, devo andare alla toiletta. Eh beh, va. Senta, devo andare all'aeroporto. Eh beh, va. Devo andare al ristorante. Eh beh, va. Scusi, devo andare in Giasparano. Eh beh, va. La più in qualità, la più in qualità. Ragazzi, dobbiamo andare alla caserma. Senta, devo andare in spiaggia. Eh beh, eh beh. Eh beh, eh beh. Eh beh.